Siamo al primo giorno di scuola, la maestra, una bella ragazza, giovane, entra in classe con una gonna corta, si siede, la cattedra sotto è scoperta, prima fila c'è Pierino che la guarda con insistenza, tutti gli altri alunni uguali, a un certo punto la maestra se ne accorge e dice Luigino, te, che cosa stai guardando, che cosa hai visto? Eh, signora maestra, ho visto fino al ginocchio, sospeso per un mese. Tu, Michele, chi hai visto? Eh, signora maestra, ho visto un po' di più, ho visto fino alle cosce, sospeso per tre mesi. Tu, Pierino, che cosa hai visto? Si chiede, Pierino si alza al piedi, figlia la cartella, signora maestra, faccio prima se ci si vede il prossimo anno, tutto ve l'ho visto io.